Io stasera ho fatto il cous cous ma invece del pollo usato il maiale andrò all'inferno Ma? Ma... esagerati 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 Ma tu live in India saresti sacra dice Fabio Oddio perché? Perché sono una porca Ma sono le mucche in India le sacre Ma lui pensava ci voleva fare se non possiamo andare a cercare Sono le vacche quelle sacre in India Mu mu meo Mu mu meo Mu mu meo Mu mu meo Yuri dice non bullizzate Lara Ok Ok Ehi Ehi gelo Mh